ciao fiorellini e fiorelline come vedete e come ho detto sul titolo oggi facciamo un smr col te allora ho preso i bicchieri poi il te come sempre rilassatevi perché aspettate un attimo vediamo che sono qua sotto la fotocamera si come si vede più alta ecco adesso per un po' frizzerò il te voglio dire mi fa molto piacere quando io leggo dei vostri commenti che vi piacciono i miei sono molto molto felice che in questi momenti che si deve stare a casa obbligati io vi riesco a far rilassare purtroppo questo periodo è molto difficile da affrontare e sono molto 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 contenta che voi riuscite a rilassarvi con la mia voce sono super contenta io 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 tu io 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 e adesso piano piano l'acqua ci sta portando via tutto, i nostri problemi, le nostre paure e in questi minuti che io sto qua a farvi il video non pensate a altri problemi ma rilassatevi e siete sicuri che credi in Dio, che Dio vi aiuterà, io purtroppo non credo però se esiste qualche cosa lui aiuterà sicuro, viviamo da un tè buono questo tè, mettiamo via vicino alla fotocamera io spero tanto che presto finiranno queste cose oggi guarda noi, guarda me, c'è il sole il sole che purtroppo dobbiamo vederlo da casa e speriamo che finisce presto tutti andranno in vacanza al mare si diverteranno e tutto sarà passato però non ve lo scordate è dove stiamo passando questi momenti questi momenti cruciali della storia ci dobbiamo sempre dare i denti di lavarci e tutto pure quando non c'è più questa cosa perchè la polizia c'è sempre dappertutto bene su tutte le cose la polizia della casa la polizia del corpo i vestiti tutto io personalmente ho poche vestiti però li lavo li profumo e me li rimetto mamma mi ha imparato che la polizia sa bene c'è tutto io sono contenta quando vi aiuto e tutti mi dite fare altre ASMR ma cercherò da farli il più possibile specialmente in questo periodo che non c'è questa difficoltà anzi se voi volete che pure quando sarà finita questa cosa volete che io vi faccio spesso l'SMR io li faccio li faccio volentieri per i miei fiorellini per chiudarmi e sono super felice felicissima di fare qualche cosa di bello per voi io sto qua per questo per aiutare le persone mi è sempre piaciuto mi è sempre piaciuto essere famosa si mi è sempre piaciuto aiutare le persone la cosa più bella che desidero aiutare le persone sono sempre una persona che ha aiutato tanto le persone mi sono sempre spesa per aiutare più le persone che avevano bisogno di me speriamo che questa volta voi sarete contenti e mi paccherete in con le scritte a scrivervi fare visualizzazione quello mi potete ripagare perché io sono sempre felice quando vedo che mi guardate tanti video o che mi dite mi ci fa fare tantissimo quanto mi dite e questa notte non riuscivo a dormire quando è stato ASMR e mi sono rilassata bellissimo bellissimo mi ripagate con l'affetto con l'amore con l'apprezzamento delle cose che io faccio sono super felice grazie Fiorellini voi siete una gioia per me non potrei più vivere senza di voi siete una gioia non so come spiegarvi io quando mi metto l'antan fotocamera sono così bene così felice che posso aiutare qualcuno di voi o qualche una persona che vede i miei video grazie una cosa bellissima io quando dico da pagare non voglio soldi da voi ma mi ripagate con l'affetto con l'amore l'apprezzamento che avete i miei sforzi che faccio questo meglio dei soldi meglio se non sono felice spero che passerà presto questo periodo difficile e potrò incontrare qualcuno di voi di strada che mi saluta io poi sono una persona che mi piace praticare e baciare questi giorni sto soffrendo tantissimo perché devo stare lontano per le persone comunque grazie grazie che voi esistete e mi fate bei commenti commenti gratificanti vi amo fiorelline fiorelline e ditemi se volete più video di ASMR io ve li faccio volentieri certo non tutti i giorni spero una volta a settimana due volte ora li sto facendo più spesso perché c'è questo problema di questo virus per stare più tranquilli mi sono felice però si volete più spesso dirlo ve lo faccio una volta una volta una settimana poi dopo io adesso vi lascio grazie per la visibilizzazione che mi avete fatto vita e spero che vi ho fatto rilassare e adesso siete più tranquilli ciao fiorelline grazie che esistete a la prossima video ASMR ciao